Una grande festa con musica, ospiti, tifosi e cittadini per onorare i successi di Pineto Calcio e Abba Pineto Volley. L'iniziativa comunale si è svolta al Parco della Pace di Pineto dopo la sfilata dei tifosi lungo le strade della città. Soddisfazione e sostegno dall'amministrazione e dal sindaco Robert Verrocchio. Una serata direi magica, per ricordare un anno magico. Un anno magico per la nostra città, per la nostra comunità, per lo sport in generale. Devo dire perché è stato un anno ricco di risultati, di soddisfazioni nell'ambito di tutte le attività sportive. Ci sono motivi davvero per festeggiare questa sera perché sono due realtà. Io ringrazio le società, tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato, gli atleti, tutto lo staff in generale, ma anche i tifosi, devo dire, che poi le squadre si arricchiscono anche di carica, grazie alla tifoseria che non ha fatto mai mancare alla presenza il calore. L'Abbapineto Volley, dopo aver conquistato le due coppe di Lega A3, prenderà parte al campionato di A2 riscattando il posto lasciato libero da Saturnia-Catania salita in Superlega. Le parole del massimo dirigente Guido Abbondanza. Abbiamo conquistato sia la Coppa Italia che la Supercoppa Italiana, è stata un'annata incredibile, ma credo che è un anno in cui ci ripaga di tanti sacrifici, siamo impegnati in questo progetto ormai da più di dieci anni e quest'anno, come dire, finalmente sono arrivati due trionfi importanti. Poi adesso vedremo, è tornato un grande entusiasmo al Palavolli e questa è la cosa che ci fa più piacere. È stato un fumigace sereno perché noi avevamo riorganizzato la squadra per l'A3, è una squadra sempre una squadra competitiva, poi è capitato questa occasione, abbiamo ritenuto che era giusto fare questa operazione e speriamo di consolidare e mantenere la categoria. Insaziabile il Pineto Calcio che, dopo aver conquistato campionato e Coppa di Serie D, entrerà nel mondo professionistico disputando la sua prima Serie C, un successo marchiato dal tecnico Amaolo, ma soprattutto dalla gestione del presidente Silvio Brocco. Ragazzi fantastici, un gruppo molto unito, il tecnico Amaolo ha lavorato benissimo, ha saputo coagulare bene il gruppo, metterli bene insieme, ragazzi che hanno veramente avuto delle performance molto molto soddisfacenti. Per chiudere, questa sera nella doppia vesti di presidente è musicista? Eh sì, il presidente è ovvio, mi spetta perché rappresento da tanti anni il Pineto Calcio. E poi è un piacere suonare con il mio gruppo in questo posto meraviglioso, che è il Parco della Pace qui di Pineto, dove ogni anno facciamo delle performance musicali.